Musica Ma stai registrando? No? No, perchè le sono? Beh, infatti, avevo dentro 10 10 e un quarto, va bene Io mi riscardo a mettere viva Mi riscardo un po' Musica 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 Che ore sono? Bene Ma sul display si può mettere l'orario qui? 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 Tu lo metti? Qui? Al centro Metti l'orario al centro Grazie Così almeno Ma lo stai registrando? No? Aspettiamo Non lo chiamano? Allora Allora aspettiamo Musica 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 Avevamo detto Giovedì alle 10 Sono re Perfetto Oggi è Perfetto Musica Op Musica 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 Oggi è? L'appuntamento era alle 10 E sono lì bravo Vieni, vogliamo, dai Eh sì, dai, basta Vogliamo, sentiamo un secondo L'ottor Rob dice uno che si è dimenticato che oggi Che è giovedì Alle 10 c'era il video che dovevamo fare su Wish Warrior dei Pink Floyd Ora vado a prendere il telefono e lo chiamo Allora, Katana Katana, vai Squilla Ma chi è? Ma chi è che rompe? Pronto, pronto Ma chi è? Io? Ah, sì, te, potevi dirlo subito, no? Che c'è? Che giorno è oggi? Oggi, è giovedì Beh, e giovedì che dovevi fare tu? Guarda che non mi sono scordato di venire in salita Se è questo o quello, quindi sì, lui Allora, visto che sono al 3, ti aspettavo per le 10 Puoi dirmi cosa è successo? Ho bucato Ah, hai bucato e ci metti 5 ore per cambiare una gomma Ma no, è che poi è scoppiato un incendio in un bosco vicino E ho aiutato i pompieri a spendere Tu hai aiutato i pompieri? Guarda che è vero, comunque sto arrivando Sarà meglio, sbrigati Sì, sì, sì Arrivo subito Ciao Ma porca L'avevo detto prima Che si era dimenticato Ma chi lo regge? A posto Mi dobbiamo ammazzare Noi lo aspettiamo E il signore si dimentica A posto Salve a tutti Mi chiamo Corrado Con questo video oggi vorremmo Assieme a mio fratello Katana Per favore Vorremmo mostrarvi appunto, chiedo scusa Come si segue il riff iniziale The Wish Warrior dei Pink Floyd Ora faremo solamente un breve accenno di questo glorioso pezzo Liberamente interpretato da noi Da me e mio fratello Katana Per favore Per favore Ok? Questo poi lo tagliamo Ok? Per favore Dicevo che questo pezzo è liberamente interpretato da me e mio fratello Katana Io farò la chitarra ritmica e lui farà la parte solistica È un giro di due battute Al termine del quale il video finirà Io spero vivamente che vi piaccia Che sia di vostro gradimento Qualora questo sia Vorrà dire che il merito è mio Se invece il video non funziona E non ha Non tiene Non tiene il risultato sperato Sicuramente è colpa sua Allora Buon divertimento Per favore Ti ho chiesto Per favore Buon divertimento And check it out Vai con la base Buon divertimento 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.